l'argomento di oggi come vi dicevo è social network e diritti della persona che è un tema cruciale nel settore del digital marketing dal momento che come già probabilmente immaginate ma come vedremo molto più dettagliatamente oggi il vero prodotto nel senso economico del significato della parola il vero prodotto dei nostri tempi non sono più non è più l'oggetto non è il risultato di un'attività industriale o di un dell'erogazione di un servizio ma siamo noi stessi nel senso che tutta l'attività generata attorno all'ecosistema distopico dei servizi basati sulle tecnologie delle informazioni tutte le attività sono orientate esclusivamente ad un obiettivo ovviamente dopo quello di di guadagnare profitto l'obiettivo di trasformare noi in prodotto questo modo di questo atteggiamento ha avuto un impatto significativo sulla sul sistema dei diritti e sulla concezione stessa del del concetto di diritto come vi ho detto in più di un'occasione siamo passati dalla definizione del contenuto di un diritto determinata dalla scelta dalla dialettica dal dibattito pubblico che avviene nella società ad una dimensione nella quale che cosa sia un diritto e quale sia la sua estensione sono elementi determinati da scelte di tipo industriale i diritti della persona quindi diventano un elemento da un lato abilitante nella prospettiva industriale e dall'altro lato sempre da una prospettiva industriale frenante perché capite bene che tutta la struttura di modelli commerciali basati sulla sulla profilazione sulla raccolta dei dati a qualsiasi livello ha dei problemi nel dover nel doversi confrontare con delle regole che impongono quantomeno un dovere un obbligo di trasparenza nei confronti delle persone che non è soltanto l'obbligo di trasparenza derivante dalla normativa sulla protezione dei dati personali come poi vedremo nella giornata nella quale interverrà l'avvocato scorza ma è in generale tutto questo è in generale legato al ruolo dei diritti della persona come quasi fattore di fastidio nei confronti del perseguimento di obiettivi di tipo economico i social network da questo punto di vista rappresentano il meglio e il peggio del di quello che sta succedendo e analizzare la loro la loro evoluzione è il modo migliore per capire come è cambiato il sistema dei diritti di cosa parliamo oggi innanzitutto come è oramai d'uso nei nostri nei nostri incontri parto da una premessa di tipo storico tecnologico perché se non capite come è nato e come si è evoluto questo settore non potete poi afferrare le implicazioni da un punto di vista normativo e sociale quindi la prima parte della lezione sarà basata appunto su questa ricostruzione mentre invece la seconda analizzerà l'impatto di quello che discuteremo all'inizio sul sistema dei diritti e soprattutto sull'impatto appunto su quelle che possono essere appunto genericamente considerate le attività di digital marketing perché esistono i social network i social network esistono per via della seconda parola che li definisce network anzi in realtà per la prima social cioè le tecnologie dell'informazione nascono intrinsecamente come vi ho detto quando abbiamo parlato della nascita dell'internet per mettere in contatto persone quindi potremmo dire che il nome più corretto dell'internet o meglio l'interpretazione più corretta della parola internet non è internet working ma inter exchange cioè scambio fra persone questo è un equivoco estremamente diffuso nel mondo del nostro settore e dove si tende ad accentuare il ruolo della tecnologia rispetto invece al suo utilizzo. Vi faccio un esempio pratico se oggi andate su repubblica.it trovate un articolo sulla testata tecnologica di Repubblica con la quale collaboro Italian Tech che parla della musica liquida cioè della musica in alta qualità che peraltro ha poi degli aspetti di marketing se volete ne parliamo quando parleremo del copyright particolarmente interessanti trovate questo articolo che magnifica la la nuova la nuova ondata di musica ad alta qualità che può essere fruita tramite le inevitabili piattaforme e che però richiedono hardware più più potente cuffie e amplificatori in grado di decodificare la musica e via discorrendo questo articolo se lo leggete se leggete questo articolo è pieno di parametri tecnici di codec compressioni formati di campionamento frequenze di campionamento tecnologie bluetooth e via discorrendo non dice una cosa la cosa più importante più essenziale e cioè che la musica i file la musica liquida i file cioè la musica i file musicali non migliorano di qualità semplicemente perché vengono riconvertiti da 44,1 kilohertz 16 bit a 32 bit barra 192 kilohertz di campionamento perché se il master cioè la registrazione è di bassa qualità e se l'ingegnerizzazione per l'ascolto non è fatta per un impianto i file non potete avere più qualità della sorgente tradotto è vero che un partendo dalla fine un file registrato eseguito a 24 bit 192 kilohertz è in grado di erogare una qualità sonora molto più elevata dello standard attuale del cd cioè 44,1 kilohertz 16 bit ma questo a condizione che la registrazione iniziale sia fatta almeno alla stessa frequenza di campionamento e con lo stesso la stessa unità di campionamento perché se io la registrazione la faccio a 44,16 e poi pretendo di generare un file in qualità 24,192 in realtà non sto dando nulla in più all'utente che cosa vuol dire questo quindi per ritornare al punto che se ci concentriamo soltanto sulla componente tecnologica ci sfugge la natura reale del fenomeno che stiamo analizzando se volessimo sintetizzare in una frase in un concetto il contenuto della società dell'informazione è la persona deve comprare i diritti servono non più per proteggere ma per incentivare il consumo torniamo al discorso dei social network dicevo non c'è nulla di nuovo nei social network perché i social network nascono con la nascita stessa delle tecnologie della comunicazione interattiva l'internet ma poi anche feedonet di cui vi ho già parlato nascono per far parlare persone e per far parlare persone che avevano qualcosa da dirsi quindi la caratteristica dei servizi di comunicazione elettronica e delle tecnologie di comunicazione elettronica interattiva era quella essenzialmente dello scambio di informazioni informazioni di qualsiasi tipo perché se andate a cercare i vecchi newsgroup vedrete che la goliardia era molto diffusa già soltanto nell'ecosistema degli acronimi RTFM, FAQ e via discorrendo percepite che c'era un umorismo a volte anche un po' triviale ma che era una componente fondamentale nella comunicazione dell'epoca e tutte le funzioni essenziali dei sistemi operativi di rete sono trutturate sono pensate per consentire questa interazione esiste un comando nel sistema operativo UNIX che è quello universalmente utilizzato fin dall'inizio nell'ambito delle infrastrutture di rete che si chiama Finger che cos'è il Finger? il Finger è un comando che mi consente di sapere quali sono le coordinate per raggiungere una persona su un altro sistema se mi collego quindi su un ICH faccio Finger nome utente e riesco a prendere una serie di informazioni non a caso Finger poi è stato uno degli strumenti più utilizzati all'inizio per il lato oscuro dell'utilizzo della rete cioè per cercare di prendere informazioni su potenziali utenti da attaccare o dei quali prendere i privilegi di accesso per poter poi entrare appunto in un sistema è possibile esiste un altro protocollo che si chiama IRC che è l'antesignano realmente di Whatsapp perché IRC era un sistema era una chat di rete sostanzialmente con un client IRC non fate nulla di diverso di quello che fate adesso con Whatsapp, con Telegram con quello che vi pare compreso lo scambio dei file compresa la creazione di gruppi l'accesso anonimo anzi forse con IRC si poteva fare molto di più di quanto si possa fare con Whatsapp e qual era la caratteristica di IRC il cui acronimo espanso vuol dire Internet Relay Chat cioè chat veicolata tramite la rete internet la caratteristica è che chiunque poteva mettere in piedi un sistema anche tuttora si può fare chiunque può mettere in piedi un server IRC quindi se uno volesse farsi il proprio Whatsapp personale libero da condizionamenti monitoraggi, violazioni della pratica se via discorrendo potrebbe farlo senza il minimo problema e qui vi lascio il primo spunto perché nonostante la disponibilità ancora attuale di tecnologie che ci consentono di ottenere per esempio sistemi di messaging che possiamo utilizzare soltanto con chi vogliamo e quindi nel rispetto non solo della protezione dei dati personali ma anche della sicurezza individuale perché nonostante questo ci ostiniamo a utilizzare servizi centralizzati se vi andate a cercare su YouTube un vecchio sketch di Corrado Guzzanti quando parla delle caratteristiche che appunto sono rese possibili dall'utilizzo della rete internet Guzzanti dice con l'internet posso parlare pure con un aborigeno che sta in Australia la conclusione romanesco dopo avere magnificato le possibilità di interazione rese possibili dall'internet la conclusione in dialetto romanesco è aborigeno ma io e te ma che se dovemo da lì e se ci pensate in questa battuta di Guzzanti c'è tutta la sintesi della forzatura del cambio di comportamento che è stato indotto da questi sistemi centralizzati la narrativa comune del marketing di questi prodotti o di questi servizi e puoi parlare con tutto il mondo sì ma che cosa c'ho da dirgli e chi hanno da dire a me queste persone non è soltanto l'instant messaging ma anche quindi le chat ma anche i forum ciò che era disponibile immediatamente il sistema dei newsgroup tuttora anche se soltanto per un numero relativamente ridotto di utenti tuttora ancora in funzione era estremamente interessante perché i newsgroup erano dei l'equivalente di forum tematici cioè di pazzi di discussione che avevano una caratteristica non erano centralizzati cioè i newsgroup venivano veicolati da vari server chiamati news server che avevano questa caratteristica prendevano le gerarchie news seguivano un certo indirizzo alt punto e poi da lì veniva il veniva il nome diciamo che ci si occupa di modellismo e quindi la gerarchia newsgroup era alt punto modellismo punto auto d'epoca voi mettevate mettete nel client di posta elettronica l'indirizzo del news server che ospita questa questo gruppo di discussione e automaticamente scaricate man mano che arrivano i messaggi del gruppo alt punto modellismo punto auto d'epoca potete rispondere potete consultare e partecipare in modo del tutto anonimo potete allegare file allegare link ma con quale caratteristica se qualcuno spegne quel news server perché il fornitore decide che non è più interessante tenere in piedi il servizio oppure perché viene censurato come è stato come è accaduto in molti casi voi non fate altro che cambiare news server perché questo perché l'archivio dei newsgroup è un archivio che non c'entra niente con la blockchain perché è una tecnologia di 40 anni fa ma è un archivio che viene in tempo reale replicato su tutti quanti i news server che fanno parte della rete quindi nella sostanza andare a bloccare il flusso di un determinato determinato newsgroup così si chiamano era un'attività particolarmente complessa già all'epoca ora come potete immaginare i newsgroup sono diventati una delle prime frontiere dei temi legati alla libertà di espressione e alla privacy perché è vero che c'era alt.modellismo.auto d'epoca ma c'erano anche newsgroup molto più pesanti dal punto di vista dei contenuti non soltanto in termini politici ma anche in termini psicopatologici perché nella parte diciamo oscura dei newsgroup oggettivamente c'erano delle cose estremamente difficili da giustificare con la libertà di espressione ciò non toglie che i newsgroup sono stati i primi strumenti apporre il problema del bilanciamento fra i diritti individuali della persona e l'impatto che l'esercizio collettivo di questi diritti ha sulla società seguitemi bene che cosa cambia con la disponibilità di servizi di questo genere cambia il fatto che tradizionalmente i diritti sono una relazione uno a uno fra cittadino e stato quindi l'estensione di un diritto e l'impatto di un diritto sono fattori condizionati dalla scarsità o dalla limitatezza del numero dei soggetti che interagiscono quando invece lo stesso identico diritto viene esercitato da un numero estremamente elevato di persone e magari addirittura soggetti a giurisdizioni diverse cioè soggetti alle leggi nazionali dei singoli paesi cominciano a manifestarsi delle crepe nel sistema perché innanzitutto c'è una differenza sostanziale fra la critica politica fatta anche forte fatta da un individuo e la stessa critica fatta contemporaneamente da centinaia di migliaia di persone dal punto di vista della gestione del potere ricordate la lezione che abbiamo fatto su questo tema dal punto di vista del potere c'è una differenza sostanziale perché centomila individui che si lamentano individualmente sono centomila individui centomila individui che si lamentano collettivamente sono una massa e abbiamo visto che la massa è un organismo biologico che è superiore alla somma dei suoi componenti da qui si è posto il problema del cominciare a capire se e quale può essere il limite per esempio alla libertà di espressione pensate al discorso delle fake news un terrapiattista ha il diritto di sostenere che la terra sia piatta non ha però il diritto di essere creduto o non ha il diritto di avere ragione perché questo è un altro aspetto che poi approfondiremo legato all'esercizio dei diritti fondamentali quindi ho anche il diritto di dire che la terra è piatta o di fare affermazioni altrettanto forti e ingiustificabili ma poi se vado sotto processo e un giudice dice che effettivamente ho abusato di questo diritto poi mi devo prendere anche la condanna quindi dicevo i news group pongono per primi questo tema cioè la necessità l'opportunità o l'importanza di ridisegnare il concetto di diritto da diritto individuale a diritto collettivo un'altra caratteristica dei social network degli inizi era la caratteristica direi quasi antropologica delle persone che li frequentavano chiaramente ci sono sempre eccezioni alla regola però in linea di principio i primi utilizzatori di questi sistemi erano persone di estrazione diversissima di età diversissima di stato sociale diversissimo che però erano appunto accomunati dalla voglia di comunicare e soprattutto dalla irrilevanza delle differenze di età di sesso di censo di formazione quindi e anche questo è un elemento fondamentale per lo sviluppo del concetto dei concetti di diritto della persona diritti della persona legati all'utilizzo dei social network questo spiega il perché che è della componente libertaria che è associata all'utilizzo della rete vi invito nuovamente a leggere alcuni di voi lo hanno fatto l'anima e il corpo un articolo di Giancarlo Livraghi pubblicato sul suo sito Gandalf.it dove appunto viene esemplificata la natura di questa dissociazione fra l'apparenza esteriore e l'interiorità di una persona e quindi nel momento in cui il coacervo dei diritti della persona che sono essenzialmente per quanto ci riguarda in questo momento il diritto alla libertà di espressione il diritto all'anonimato e il diritto alla riservatezza che sono due diritti diversi poi lo vedremo meglio fa sì che si crei una ragionevole aspettativa di libertà nell'utilizzo di questi servizi quindi l'elemento fondamentale quello che quello che spiega il perché ancora oggi peraltro in modo molto ipocrita si continua a parlare di una internet libera della neutralità tecnologica e via discorrendo tutto questo ha un'origine in questo nucleo iniziale di persone che sperimentano per la prima volta una libertà psicologica e di comportamento che nelle altre forme di interazione sociale più fisiche non era loro consentita guardate il calendario e la carta geografica questa roba comincia ad essere utilizzata negli Stati Uniti sapete negli anni alla fine degli anni 70 agli inizi degli 80 in Italia agli inizi degli anni 90 a livello consumer quindi a livello di cittadini e guardate com'era la nostra limitiamoci all'Italia voi sapete com'era la società italiana all'inizio degli anni 90 prima di Tangentopoli gli anni 70 sono stati gli anni del terrorismo che ha avuto le sue propaggini di lacerazione sociale fino a una parte importante degli anni 80 la società italiana in quel periodo ha una specie di reazione edonistica agli anni di piombo alla paura la società italiana ha una sorta di reazione edonistica anche per per via della presa di consapevolezza dei più giovani di avere dei diritti e di rappresentare e di avere una individualità per cui c'è una una sostanziale perdita di direzione e quindi c'è un edonismo che comincia a prendere fortemente piede edonismo indotto dalle necessità commerciali delle nascenti televisioni commerciali e quindi c'è una nuova ripartizione sociale tema che vi avevo accennato basata sul come appare e non sul come sei ecco perché questa intrinseca necessità di comunicazione si trasforma comincia a trasformarsi in quello che l'uso di questi sistemi è diventato adesso cioè da necessità di comunicazione a necessità di essere riconosciuto come essere vivente anticipo un tema che tratterò successivamente in questa giornata uno dei motivi del successo dei social network è che attribuiscono un certificato di esistenza in vita a persone la cui esistenza potrebbe passare del tutto inosservata nel corso della propria vita vi può sembrare una cosa un po' melodrammatica però se ci pensate un attimo questo ragionamento non è così poi non è così poi sballato vi faccio un esempio non mi rispondete perché non vorrei risultare offensivo però se qualcuno di voi ha dei profili instagram pubblici o più in generale ampliamo il tema pensate ai profili instagram pubblici di moltissime persone che senso hanno cioè per quale motivo il mondo dovrebbe interessarsi a voi se avete una cerchia di persone potete tranquillamente condividere il vostro profilo con le persone che conoscete con quelle che sono vicine o con quelle che a mano a mano entrano nel vostro nella vostra sfera di contatto ma perché dovreste essere interessanti per l'aborigione australiano adesso non rispondetemi evidentemente a livello individuale provate a darmi una risposta di tipo generale per quale motivo una persona dovrebbe avere le cosiddette privacy aperte come si diceva ai tempi di facebook o in generale a rendere pubblico un profilo sul quale semplicemente parla della propria aperta e chiusa parentesi inutile vita guardate è chiaro che sto usando dei termini dei concetti molto forti però lo faccio applicando quel concetto che si chiama docendi causa cioè allo scopo di suscitare una riflessione e una discussione non certo per offendere qualcuno è bene essere chiari e trasparenti su questo quindi provate a rispondermi per quale motivo una persona che ha un'esistenza totalmente irrilevante per il resto del mondo pensa che rendere pubblico il proprio profilo instagram con le foto della colazione o dello shopping dovrebbe essere un'attività di interesse per qualcuno vi faccio un'altra domanda prima vi siete mai fatti una domanda del genere il senso della mia domanda è che cosa porta una persona a pensare che la propria esistenza ordinaria possa essere di interesse per qualcun altro capisco un attore capisco un uomo politico capisco un intellettuale capisco uno sportivo un artista non necessariamente famosi ma una persona ordinaria perché dovrebbe essere interessante per qualcun altro e il senso di questa domanda è strettamente legato agli obiettivi del corso perché la risposta è quella che condiziona le strategie di comunicazione nell'utilizzo di questi sistemi che sono